Capitano, la notte fra il 30 e il 31 marzo, noi entriamo in servizio alle 3 di notte, ma scatta anche l'ora legale, e quindi bisognerà portare in Dio l'orologio alle 2, ma quindi cominciamo il turno alle 2 o alle 3, e poi con l'ora legale l'orologio andare avanti o in Dio. Ma Cici, tu ti dimentichi poi che anche Pasqua? Eh sì, certo, ci mancherebbe. Eeeh, noccio, eeeh, sì, c'ho la Pasqua di Resurrezione, Cici. Anzi, anzi, ti ho mai raccontato di quella volta che sono risorto? Perché il Capitano oggi era morto. Eeeh, si capisce, quella volta eravamo sul tratto Santa Marta Giudecca, a bordo già di Mo, Bi, Bobo e Guido Marenda. E Fio da Cianetta? Eh, a un certo punto eravamo verso, no, Guido Marenda, eravamo verso le 3 e sono morto. Si va, c'è meglio che fermo gli auguri di Buona Pasqua intanto, tanti auguri a tutti. Ciao a tutti.